Camminando nella parte sopra la collina c'è quasi un percorso obbligato che vi fa credere che l'uscita si trovi in questo punto e come l'ho percorsa io potrebbe averlo percorso chi perse questo indumento o questo accessorio che potrebbe essere una pasmina come fu detto da chi l'ha visto ma potrebbe anche essere un qualcosa usato per imbavagliare quindi silenziare una persona o per strozzarla. Fatto sta che pochi centimetri davanti a questo oggetto che sembra trovarsi in un punto a vicolo cieco cioè se una persona sta scappando giunta qua si trova in trappola c'è una caduta di 6-7 metri. Allora ipotizziamo che Viviana giunga qui in seguita o comunque giunga qui e qui venga aggredita e questo reperto sia la prova di ciò o comunque cada nel fossato. Il puntino giallo vi indica dove ci stiamo trovando il fossato il canalone come preferite chiamarlo qui è molto alto si parla di circa 6-7 metri vi faccio vedere adesso un'inquadratura che lo dimostra quindi adesso ipotizziamo come chiesto da tanti utenti che Viviana sia caduta lì sia caduta accidentalmente sia caduta aggredita. Possiamo ipotizzare di tutto anche che i testimoni del nord che la seguono vedano questo incidente si terrorizzino e per non essere indagati inizino con le loro reticenze e con i loro depistaggi. Adesso seguiamo il percorso che fa il canalone per farci un'idea di cosa potrebbe essere accaduto in questa ipotesi alternativa quindi Viviana e Gioele sono finiti in questo canalone. Noi adesso lo stiamo percorrendo qui stiamo adesso costeggiando il casello dove il canalone diventa un fiume vedete il letto si allarga e diventa un fiume ora poniamo che gli animali presenti tramite il letto del fiume abbiano risalito il canalone perché fatto da questo lato diventa molto semplice potrebbero avere trovato i resti di Gioele precipitato nel canalone andandoli a portare nel punto dove Gioele viene ritrovato infatti il canalone come vedete fa poi una curva e passa sotto il famoso ponte dove abbiamo visto più volte cavallo. Ecco ricordate sicuramente questa famosa immagine e guardate anche quanto è alto il ponte rispetto al canalone. Questa ipotesi spiegherebbe perché Gioele viene ritrovato fuori dal bosco senza avere mai scavalcato i recinti perché tramite il canalone sarebbe stato poi trascinato dagli animali. Vediamo qua il fiume quindi che passa sotto il ponte e dopo sparisce nel nulla. Perché sparisce nel nulla? Perché in realtà qui diventa sotterraneo ovvero diventa la famosa tana indicata da chi troverà Gioele. Infatti guardate sempre dritto davanti a noi si vedono a circa 60 metri i nastri dell'area dove Gioele viene ritrovato e scendendo da qua ci troviamo ad attraversare questo punto che non è altro che il canalone che sta passando sotto terra. Tra l'altro faccio presente che i consulenti vanno a cercare tracce in questo periodo le tracce potrebbero appunto essere tutte nel canalone. Il canalone d'inverno è pieno d'acqua quindi le tracce non solo non sono più visibili perché sono state cancellate dall'acqua, i reperti che sul calzino e la scarpa sono state portate via e quindi è stato anche un lavoro un po' tardivo da questo punto di vista. Comunque qui vedete io scavalco con facilità ciò che resta del canalone in superficie perché passa sotto e vedete soprattutto ci ritengo a ripetervelo che il punto in cui viene trovato Gioele dista da qui siano 20 metri e proprio dietro questi cespugli.